Aria nuova in via dell'Acciaio, abbiamo una parte del settore centrale della squadra, Orero a centro campo, Jacopino difensore centrale, ci potete raccontare perché siete venuti qua, cosa volete ottenere e quali sono gli stimoli che vi spingono a iniziare questa nuova stagione. Qua è che ho parlato un po' con il Ministro e l'ho ascoltato, quando mi hanno convinto, ma non fossero determinate cose, è un progetto secondo me valido e questi sono altri ragazzi con cui ho giocato, Termini conoscevo come lui e come altri, quindi insomma ho due stimoli qua. Poi secondariamente i stimoli sono sempre i soldi che ti spingono ogni anno a giocare, che si sono la passione di calcio e la voglia di giocare poi la domenica. Abbiamo Jacopino che qualcuno diceva, ma un centrale difensivo non all'altezza, in senso metrico, però io dicevo che Cannavaro non era mica tanto altro. L'importante è la posizione, la posizione come difensore fa tutto e poi ho scattato di vedere l'acciaio perché è una società giovane che ha voglia di divertirsi, di divertire e poi gli offre stimoli per far sempre il bene. Quali possono essere gli obiettivi concreti di questa squadra? Gli obiettivi sono, come ne ha promossa, sono sicuramente quella di salvarsi, se non è possibile, poi non si sa mai, secondo me la squadra è giovane, ma è una squadra valida, che ha qualità e poi per ammettere quella domenica, finalmente cosa riesci a mettere in campo. Bene, allora vi aspettiamo al dunque, alla prima di Coppa, il 25, giusto? Sì, prendiamo l'ora. Ok, bocca al lupo. Grazie.